Svegliati, Stitch, svegliati! Stitch, svegliati! Va tutto bene, non preoccuparti. Era solo un altro incubo. Doveva essere brutto. Oh, bezza socia! Sai cosa significa, vero? Molto interessante! Perché non mi dici cosa succedeva dopo? Beh, pitoso, mangia scioglie, va? Capisco. E poi... E poi... E poi... E tutto. Nient'altro. Il mio parere professionale è che tu hai paura di ridiventare cattivo. Dobbiamo verificare il tuo livello di bontà. Per esempio, un cattivo? Lasserebbe che questa lampada vista in blu Hawaii di Elvis del 71 si frantumica oltre il muro? Oh, che il mio libro preferito! Interventi di chirurgia plastica sbagliati. Voli dalla finestra e vada perduto per sempre! Oh, che un suo familiare cada e muoia spiaccicato! Visto? Guarda le cose buone che fa! La mia prognosi? Il tuo livello di bontà è extra alto. Non c'è da preoccuparsi. All'inizio che faccio